correggi se percepisci il brutto correggi se percepisci il brutto quindi attenzione non correggi se ci sono degli errori ma correggi se percepisci il brutto cioè se hai la sensazione che ci sia qualche cosa che non va segui le tue sensazioni perché le tue sensazioni sono giuste anche se non hai studiato all'accademia di belle arti non importa vivi in italia sei nato in italia il paese della bellezza vivi nelle opere d'arte qualche cosa dalla tua culla l'hai acquisito è dentro di te quindi segui questo istinto l'istinto che ti dice che non porti dal tuo ragazzo il tuo ragazzo e ha una una sera a cena a vedere una discarica ma lo porti a vedere un tramonto questo è l'istinto naturale che c'è dentro ognuno di voi vi faccio un esempio avete presente emingway bene dice fernanda pivano nei suoi ricordi che emingway si alzava alle 5 della mattina girava per casa con i bermuda infilata alla meglio ancora con la visiera bianca tenuta per difendersi dai luci forti quando leggeva la notte e subito cominciava a battere qualche riga sulla sua piccola portatile tedesca che gli ha fatto scrivere alcuni dei suoi libri più importanti poi sentite cosa faceva si allontanava si allontanava e guardava a due passi di distanza quello che aveva scritto come fanno certi pittori coi quadri poi fernanda pivano spiegherà che emingway buttava via addirittura delle pagine di quello che ha scritto solo perché guardando la distanza non gli piaceva la composizione chiamare ma voi dite ma allora è matto uno così ma come tu scrivi scrivi no è quello che conta sarà il contenuto sarà quello che che tu scrivi invece no eming e guardava il rapporto tra gli spazi bianchi e gli spazi neri su una pagina dattiva scritta e se questo rapporto all'interno della pagina e fra le altre pagine quindi fra pagine e pagine non era ben distribuita accattivante lui lo gettava gettava il testo lo riscriveva dunque che cosa faceva emingway faceva un'operazione che non c'entra niente con la scrittura di un romanzo perché a casa mia scrive un romanzo vuol dire mettere insieme una storia e non mettere insieme delle parole che guardi a distanza dalla macchina da scrivere poi decidi buttare la pagina e invece no lui faceva così certo scriveva con un racconto con una certa logica chiaramente ma guardava con grande attenzione la disposizione grafica delle parole sulla pagina allora io scritto coltivare il gusto estetico ovunque in modi sorprendenti abituiamoci non si può guardare una bella opera d'arte all'interno di un museo bisogna osservare la bellezza ovunque bisogna abituare a coltivare e a tirare fuori questi queste capacità che noi abbiamo sono innate e poi sono sviluppate perché appunto viviamo in un paese in cui la bellezza sotto tutti i punti di vista della natura alle opere d'arte è il è